Il prossimo ostacolo nella corsa della Comarc Treviglio ai play-off in divisione nazionale A si chiama Trieste. Una formazione molto temibile per gli uomini allenati da Adriano Vertemati, visto che con la vittoria di domenica contro Siena si è giudicata la vetta della divisione nord-est, pari punti con Trento. I trevigliesi sono a caccia di una vittoria, seppur su un campo difficile come Trieste, che potrebbe fruttare loro la scalata al secondo posto nel girone nord-ovest, vantando anche una partita da recuperare. Ottima squadra, avete visto qua giocarsela fino all'ultimo tiro senza un paio di giocatori. Non lo so, mi piacerebbe vedere che competiamo fino alla fine, questo mi piacerebbe vedere. Vuol dire che se siamo lì possiamo giocare per vincerla, se invece abbiamo un cattivo approccio vuol dire che allora non ha funzionato il lavoro anche mentale che stiamo cercando di fare. Però io sono fiducioso, poi speriamo di arrivarci in forma, sanni quantomeno, perché qualche problemino lo abbiamo. La Comarc scenderà in campo galvanizzata dalla vittoria casalinga di domenica contro Firenze, archiviando in fretta il brutto KO di Torino. Di sicuro dopo la partita con Torino ci siamo parlati molto, ci siamo anche detti le cose abbastanza duramente perché noi stessi ci aspettiamo di più da noi. Quindi far passare una partita opaca come quella di Torino nel silenzio dicendo ok va bene dai andiamo a vincere domenica con Firenze, avrebbe portato probabilmente ad arrivare a questa partita con più serenità. Infatti si è visto che comunque non eravamo serenissimi in tante palle perse, però non ci avrebbe, secondo me, e spero che questo sia l'obiettivo, non ci avrebbe portato a prendere coscienza per il futuro, che è il nostro obiettivo, provare a competere per i playoff. E se ci arrivi non puoi certo fare prestazioni come quelle che abbiamo fatto a Torino in trasferta, con tanti attenuanti ma di sicuro veramente spazzati via, soprattutto nel primo quarto. Grazie a tutti.